Vai Ciro facciamo vedere che cosa serve questo sistema, questo è un arrotolatore ovviamente questo è un lavoro che noi facciamo, non ne facciamo tantissimi però capitano ecco qua, accendilo un attimo Francesco per favore, piccolo collaudo naturalmente va rivisto il beccuscio davanti, ecco qua qui fanno il taglio delle bobine di carta, quindi rimane chiaramente uno sprido, bisogna fare un piccolo beccuscio davanti che naturalmente aspira tutti questi truscioli, questi residui nella carta questa è un'azienda milanese, ragazzi quando si lavora nelle aziende milanesi bisogna sempre dimostrare qualcosa di più, bisogna prima vincere un pochettino di scetticismo da parte degli imprenditori, bisogna tirar fuori i curriculum e dopodiché ti danno tutta la fiducia del mondo e insomma poi si creano dei rapporti che spesse volte sono indissolubili Verdura Aspirazioni, San Giuliano milanese